Dove siamo ragazzi? Siamo in quel di Foppolo E cosa stiamo facendo? Non so, una pascolata incredibile Cosa ci fanno tutti questi snowboarder qua a Foppolo? E' tutto merito di quelli dell'Orobica Quest'anno l'Orobica ha avuto il grande onore di organizzare l'Isbaraduno Ed oggi siamo alla gita del Sabano Yeah!